Il tumore a seno è il primo per frequenza e per mortalità nel sesso femminile. Per fortuna però oggi abbiamo molti strumenti per agire in tempo e curarlo in modo efficace fino ad arrivare, in alcuni casi, alla completa guarigione. Grazie alle campagne di screening gratuite in Italia abbiamo ottenuto una riduzione della mortalità del 35%. Insomma, numeri importanti. Ma in cosa consiste questo screening? Molto semplicemente, tutte le donne di un'età compresa tra i 50 e i 69 anni, ogni due anni, hanno la possibilità di eseguire gratuitamente una mammografia. E la cosa bella è che non solo avete la possibilità di fare uno screening gratuito, ma l'ASL vi manderà anche un'email o una lettera per ricordarvelo. Ebbene sì, sempre ogni due anni, se siete nella giusta fascia d'età, vi arriverà una comunicazione dove vi verrà indicato dove andare e cosa fare. A volte però queste comunicazioni non arrivano. In questo caso, molto semplicemente, vi basterà contattare l'ASL di competenza della vostra zona e richiedere un appuntamento. O in alternativa, chiedere consiglio al vostro medico di base. Per le ragazze e per le donne con un'età inferiore a 50 anni, non ci sono delle vere e proprie linee di guida da eseguire. Ovviamente, anche per voi, la prevenzione è importantissima. Ma in questo caso, l'indicazione è quella di rivolgersi al vostro medico curante e sarà poi lui ad indicarvi cosa fare e quando farlo, in base, ovviamente, alla vostra storia clinica. Oltre alla mammografia, un altro strumento di prevenzione importantissimo è l'autopalpazione. Ma di questo ne parleremo nel prossimo video. A presto!